Ci troviamo al Palafabris di Padova, qui tra meno di mezz'ora prenderà vita il primo degli spettacoli in programma con la cantante sudamericana Violetta, interprete dell'omonima serie trasmessa su Rai Gulp, marchiata Disney. Come vedete sono migliaia le bambine ma anche le mamme che hanno accompagnato le proprie figlie per il primo degli spettacoli in programma qui nella Città del Santo che vedrà la cantante argentina salire sul palco allestito al Palafabris. Ricordiamo due gli spettacoli in programma per oggi, martedì 28 gennaio e due domani, mercoledì 29. Come vedete lunghe file per avere accesso al Palazzetto dello Sport, tanta adrenalina, ci sono le bimbe che intonano le canzoni di Violetta e non vedono l'ora di prendere parte a questo spettacolo.